Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, una giornalista determinata, coraggiosa, sempre in prima linea, impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura. Mi sono sempre battuta per i problemi del territorio. Quando sono venuta in Sicilia ho pensato, va bene, lascio un quotidiano importante, però ci sarà tanto da fare in Sicilia, ci sarà tanto da lavorare. Invece mi sono accorta che poi mancava la volontà, l'impegno, a volte anche i soldi delle emittenti per poterti fare tutto quello che volevi, ma nonostante questo non mi sono mai risparmiata. Sono sempre scesa in campo e ho fatto con grande coraggio questo lavoro di assistenza e servizio per la città, per i cittadini e per il territorio. So di essere una persona credibile e quindi voglio continuare il mio percorso anche laddove i bottoni servono per essere schiacciati e per poter far diventare un'idea, un progetto. Tu devi sapere che cosa ha bisogno il territorio e non lo sai se stai seduto su una poltrona dietro una scrivania, lo sai se sei tra la gente, se l'ascolti, se gli dai la possibilità di incidere. E per incidere bisogna esserci. Quindi votare un debutato, candidato come Patrizia Paganelli significa esserci, perché io vi do la mia parola d'onore, quello vero. Io ci sarò per tutti, questo è sicuro. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura, con Micari presidente.